Il minerale triangolare presente nei dischi fibrati Cubitron 2 è stato rivisto e migliorato. La forma triangolare è stata rivista se qualcuno che la paragona alla Torre Eiffel al contrario, dando un angolo di taglio ancora più studiato per asportare più velocemente il materiale. Ciao, sono Tommaso di Tecnista e oggi ho l'onore e il piacere di avere qua un grandissimo amico, Mirko Armelin, tecnico commerciale della 3M. Grazie di nuovo per essere qua con noi. Tommaso, sai che è sempre un piacere presentarvi in anteprima le novità di 3M e quest'anno ne abbiamo di veramente importanti. E infatti oggi siamo qua per questo, perché ancora a ottobre scorso ho fatto un video su Instagram in cui vi facevo vedere che erano arrivati degli oggetti bellissimi che abbiamo finalmente qua con noi a loro completo che sono i dischi abrasivi 3M Cubitron 3. Mirko, oggi io ti ho chiamato perché chi meglio di te può spiegarci cosa introduce di novità il Cubitron 3. Parliamo di Cubitron 3 che per certi prodotti andrà a sostituire direttamente il Cubitron 2. Cubitron 3 è un brand, come lo verrà il Cubitron 2, che per noi rappresenta i prodotti che hanno le massime performance. Però poi se andiamo nel dettaglio, le specifiche tecniche sono molto molto importanti. E cioè parliamo di minerale, cioè quindi quello che c'è all'interno del prodotto stesso. La differenza fondamentale è la forma del minerale. In un minerale ceramico tradizionale la forma è tendenzialmente di un sassetto sfaccettato che si ravviva pian pianino mentre uso il mio prodotto, ma poi dopo poco tende a perdere il tagliente. Il Cubitron 2 cosa ha di specifico e di particolare? Il minerale è di forma triangolare, è sempre ceramico, ma di forma triangolare che si autoravviva lasciando il tagliente e la forma sempre precisa. Ecco che le performance che molti di voi già conoscono sono veramente, ma veramente diverse, più importanti rispetto a un ceramico tradizionale. 3M, da fine 2023, introduce un ulteriore brand che si chiama Cubitron 3. Nello specifico, se parliamo di dischi fibrati, in questo caso il minerale triangolare presente nei dischi fibrati Cubitron 2, è stato rivisto e migliorato. La forma triangolare è stata rivista, c'è qualcuno che la paragona alla Torre Eiffel al contrario, dando un angolo di taglio ancora più studiato per asportare più velocemente il materiale. 3M introduce una nuova versione di dischi fibrati che si chiamerà Serie 11. È molto facile distinguere i due prodotti, Serie 9 Cubitron 2, ovviamente il brand Cubitron 2 rimane, e Serie 11 Cubitron 3. Tu hai parlato di minerale, in questo caso nei fibrati, si può applicare lo stesso discorso nei dischi rigidi? No, non è la stessa situazione. Nel caso dei prodotti rigidi, gli ingegneri 3M hanno lavorato nella composizione del prodotto, ma il minerale all'interno è rimasto lo stesso, chiamato PSG, è rimasto lo stesso utilizzato per il Cubitron 2. Cosa è cambiato allora? È cambiato la composizione delle resine e dei collanti che ovviamente legano il disco rigido. In più, cosa è cambiato? A livello di proposta nel mercato, sono stati introdotti nuovi formati, tra l'altro molto molto richiesti e soddisfano in pieno, per fare un primo esempio, il saldatore. Parliamo di disco ibrido, anche questo in passato già documentato con Tommaso, per capire la bontà dell'applicazione con il disco ibrido. Abbiamo introdotto un nuovo spessore, oltre al 4,2 di spessore, introduciamo il 3,2 di spessore. Disco importantissimo per chi fa saldature speciali, tipo a piena penetrazione, dove spesso la cava di ingresso è normalmente intorno ai 3 mm, e quindi avere un disco certificato taglio e sbavo, con uno spessore 3 mm con la tecnologia Cubitron, garantisce delle prestazioni ore uomo che sono impressionanti. Poi che misure ha aggiunto? Hanno lavorato moltissimo nei dischi da taglio, dove abbiamo ampliato anche qui la gamma, introducendo dei nuovi spessori. Abbiamo il primo spessore, è lo 0,8, molto molto importante per il taglio delle lamiere sottili. Abbiamo introdotto anche l'1,3. Quindi ricapitolando, oggi abbiamo una panoramica completa dei dischi da taglio T41 serie piana, quindi non a centro depresso. La nuova tecnologia Cubitron 3 applicata ai dischi rigidi, dischi rigidi intendiamo dischi da taglio, dischi ibridi e dischi da sbavo, quindi tutte queste tre famiglie di prodotti sostituiscono in pieno la tecnologia Cubitron 2. Quindi da quest'anno non ci sarà più il Cubitron 2, ma ci sarà il Cubitron 3. Disco fibrato con tecnologia Cubitron 3 avrà sempre le due varianti, versione da inox e versione da ferro, da acciaio e carbonio, quindi 987 che diventa 1187, oppure 982 che diventa 1182. Questi dischi sono un upgrade sulla serie appunto 9, ma rimangono presenti nel mercato tutti e due. Quindi il prodotto Cubitron 3 non sostituisce il prodotto Cubitron 2. Si aggiunge. Si aggiunge. Tecnicamente potremmo capire il valore della serie 11. Ottimo, grazie Mirko, grazie mille per questa spiegazione veramente breve, concisa, molto tecnica, ma anche molto semplice da capire, penso per tutti. Vi ricordo che il nostro sito è come sempre tecnista.it, in cui potete trovare questi e tanti altri prodotti di saldatura, carpenteria e meccanica. Il numero di telefono è sempre quello, 0431 621 270, anche se tanti ormai ci scrivono su WhatsApp, che è 348 60 18 421. Vi ringrazio di nuovo, e Mirko? Grazie a tutti, grazie a te Tommaso. Perfetto, ciao!